questa è la natura nei primi giorni di maggio non è un maggio qualsiasi maggio 2020 ma per la natura non c'è differenza essa ha continuato silenziosamente il suo percorso e noi umani ci siamo persi i primi respiri della primavera maggio è il momento dove la natura diventa più verde il colore più importante questa natura si trova a pochi chilometri da casa mia ed osservandola bene è possibile notare tantissime piante ed animali c'è anche questo piccolo lago composto da acqua sorgiva che arriva da una vicina sorgente che negli anni 50 era conosciuta con il nome di sorgente don bobbio questo laghetto al suo interno conserva un numero enorme di animali incluse tartarughe d'acqua nutrie moltissimi pesci e molto altro i laghetti sono molti e si sono formati durante la costruzione dell'autostrada a5 negli anni 60 per via delle operazioni estrattive e dopo questo viaggio nella natura del canavese io vi ringrazio per la visione vi invito anche ad iscrivervi a questo canale dove ho intenzione di caricare una grande quantità di contenuti nel prossimo futuro come sempre noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti